Se il popolo non è riuscito a darsi la democrazia perché la sinistra non è al potere, è compito, è missione della magistratura. Bene, questa magistratura nel 94, anzi nei due anni precedenti, nel 94 siamo arrivati noi, nei due anni precedenti, nel 92-93, la magistratura sgombrò il campo dei cinque partiti democratici che nel bene o nel male ci avevano governato per 50 anni. Credevano in questo modo di avere aperto la strada a una conquista definitiva del potere alla sinistra. Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti! Vergogna! Forza Italia per essere liberi e Forza Italia per fare per crescere e Forza... Silvio Berlusconi Civile Cari amici, voglio parlarvi con la... TUTTI A CASA! E' tecnicamente un figlio di puttana, nel senso di... I YANGRAF! Com'è? Capito? Qua stiamo parlando dei gruppi di adesso, i Dream Theater, i Symfony... Voglio di invitarvi al Bunga Bunga. Ok! Cosa hai preso? Le pezze in disordine a casa? Voglio denunciare questo figlio. Io, porca madonna di Dio... Che contenga! Io, porca madonna... Lei è un comunista! L'ufficiale di polizia, prenda le generalità di questo signore! Io vi chiedo scusa, ma... Non devo interrompere... Eh, Dio santo! Guarda... Dio cane! Dio porco! Dio porco! A giudicare nei documenti, si direbbe un comunista! Capo dello Stato di sinistra! Il movimento di forze politiche, che pure mi hanno ora chiamato ad assumere... 11 giudici! I comunisti! Lasciatemi innanzitutto esprimere le mie forze! Giuro di essere fedele al... Partito Comunista Italiano... Fine... B Volpe dartol piano bella far s